ciao a tutti e come sempre bentrovati bentornati benvenuti se siete nuovi sul canale siete su Cartoman Tic e oggi facciamo un interativo per scoprire quale bella novità è in arrivo entro poco quindi massimo una settimana bella perché quelle brutte arrivano già da sole quindi non ci interessa saperlo prima ovviamente può essere bella magari per gli effetti che farà quindi non aspettiamoci per forza una notiziona ma magari qualcosa che all'inizio può sembrare piccolo ma in realtà poi apre le porte a qualcosa di meglio non è che metto le mani avanti che dobbiamo stare pronti a tutti e come sapete chi conosce il canale quale carte si leggono quindi non inventiamo niente perciò stiamo pronti a qualunque cosa noi la chiediamo bella e quindi capiremo poi comunque vada il perché di questo giudizio secondo le nostre estese allora userò due mazzi come ho spiegato per alcuni tipi di interattivi ormai era diventato ridondante farne tre perché due si assomigliavano sempre quindi per una piccola differenza tanto vale farne due molto più approfondite quindi andando proprio scandagliare ogni singolo dettaglio per poter poi allargare appunto la copertura a tutti coloro che dovessero scegliere quella variante per entrambe trovate nella descrizione del video i times quindi link diretti alle parti del video in cui parlerò appunto della variante che avete scelto che potete scegliere ora o mettendo il video in pausa mi aspetto che chi sceglie la prima variante e non stia a guardare i time time però comunque se poi magari tornate fra un po sappiate che quella è la strada quello è il cammino per ascoltarli allora come dicevo io direi qua usiamo le cartamondi che sono queste ormai credo che riconosciate tutti e le piattiche quindi andiamo sulla tradizione oggi due mazzi veramente forse tra i più diffusi avete appunto avuto tempo per scegliere se no mettete il video in pausa io comunque adesso parto e per vedere questo messaggio metto da parte spero che non sarebbe la male le nostre piattiche e iniziamo con il primo messaggio faremo uso un po di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione andiamo subito a vedere lo stato d'animo in cui siete riguardo alla novità di cui ci parlerà questa stesa quindi partiamo subito coloro a che si dimostra per quanto mi riguarda non c'è mai niente di assoluto però per quanto mi riguarda sempre molto molto preciso e difatti avrete notato che quando poi andiamo avanti man mano a vedere i dettagli con altri mazzi di carte sempre lì si torna perché effettivamente cina proprio il la in modo molto puntuale vediamo subito che cosa ci dice allora è qualcosa che in questo momento o è stato reciso o che invece verrà finalmente tagliato escluso dalla vostra vita stiamo parlando di un taglio che sia già avvenuto che sia da rimediare che sia da aspettare non spiccare questo adesso andremo a vederlo naturalmente poi dopo terremo presente tutto questo quando faremo per la nostra stesa abbiamo gli osha ben che cosa ci dicono allora creatività e guida allora questa cosa sicuramente che arriva una novità a che vedere col vostro lato più creativo non parliamo soltanto di arte la creatività è molto di più anzi direi che fa tutto capa lì a capo a quelle che sono le nostre tendenze le nostre passioni e quando non ci facciamo coprire dalle dalle limitazioni circostanti e qui c'è una guida come se stesse arrivando qualche cosa che ci mette in grado di capire come agire secondo la nostra creatività guarigione dolore e abbondanza allora adesso non state bene questo è un taglio un taglio c'è già stato taglio c'è già stato visto accondizionando state tentando di diciamo di andare oltre di superare questo momento di difficoltà sicuramente avete le risorse per farlo però in questo momento qui c'è stata o una separazione un allontanamento dalla persona che amate questo è appunto il campo d'azione altrimenti potrebbe essere un licenziamento un allontanamento dal lavoro la perdita del lavoro per altri motivi oppure in altri casi anche parliamo sempre di amore ma esiste anche meno male anche l'amicizia quindi un rapporto di amicizia che si è interrotto e che state cercando di appunto superare in questo momento momento un po di difficoltà perché ha scelto questa stesa vediamo che cosa hanno da dirci il simbolo vediamo il taglio di questo mazzo che comunque anche se ogni tanto mi permetto di prendere in giro ma è sempre tanto preciso e allora qua avete peccato di ingenuità per questa rottura purtroppo e le cose non sono infatti andate come vi sareste aspettate un'ingenuità pulita quindi siete stati forse avete ragionato con la vostra onestà applicandola a qualcuno che invece non ne aveva poi tanta e qua adesso sembra essere andato un po tutto così a scatafascio fate fatica anche a superare questa cosa vediamo un pianatore eccolo lì e insomma siete in fase di rimescolamento state rimuginando state pensando che forse forse avreste dovuto essere più tenaci meno ingenui soprattutto meno condiscendenti con la persona qui che vi ha provocato questo dolore perché di dolore si parla e adesso ahimè comunque questa guarigione questa abbondanza che vi aspetta alla fine del tunnel in questo momento sta proprio rallentando un po siete alle prese con il rivivere ciò che è stato e cercare di capire se la cosa qualunque essa sia sarebbe stata possibile in un altro modo quindi sarebbe potuto risolversi in modo diverso da quello che è stato partiamo qua quindi da una situazione dove una bella novità una bella notizia è quanto mai importante vediamo l'arcano di questa stesa ancora l'imperatore diciamo che per essere proprio onesti cosa che quando si leggono le carte non è una un'option no bisogna sempre esserlo diciamo che comunque per quanto voi stiate andando all'indietro con la memoria con rivivere i fatti col vedere un po' se le cose potevano andare diversamente però io da qua vedo che comunque alla fine la risposta è sempre no non potevo fare diversamente non avrei potuto fare diversamente sono stato fedele a me stesso sono rimasto stabile ho fatto quello che sentivo l'imperatore non è una carta particolarmente empatica ma una carta di stabilità diciamo che pur avendo incassato una sconfitta una rottura un allontanamento insomma un taglio che vi ha fatto del male però continuate a pensare che pur nel dolore state bene sapendo che siete stati coerenti con i vostri valori forse anche un po intransigenti certamente questo imperatore non vi vede molto morbidi adesso ma neanche al passato nel senso se da un lato a volte vi viene il dubbio che forse avreste dovuto essere più inflessibili con il rispetto al vostro atteggiamento in realtà vi state rendendo conto che lo siete stati inflessibili rispetto invece ai vostri valori quindi anche tornando indietro con la memoria qui non c'è rimpianto c'è rimpianto per come poi sono andate le cose ma siete abbastanza convinti che non avreste potuto comportarvi in un altro modo e questo secondo me è già un punto di partenza piuttosto importante allora prendiamo prima in questo caso le parole chiave perché qua è ancora molto labile la cosa non sappiamo se stiamo parlando di amore o se stiamo parlando di altre situazioni quindi saranno loro a dircelo vediamo la parola chiave per farci capire impulsività ecco appunto questo è l'altro lato della medaglia pensate di essere stati impulsivi ma allo stesso tempo pensate di essere stati coerenti con i vostri valori è vero magari avreste potuto essere un po' meno ingenui ma per voi o le cose andavano secondo quel grado di onestà o no siccome dall'altra parte onestà non ce n'è stata tutto sommato rimpianto o meno siete abbastanza contenti no sicuramente contenti no però perlomeno soddisfatti del comportamento che avete tenuto allora spetta alloge a questo punto illuminarci sull'argomento per andare un pochino più a fondo qui sta arrivando una bella novità riguardo una situazione nella quale siamo in partenza un po' con le orecchie basse con il piede nel sacco ma ancora non si riesce a capire se stiamo parlando di una situazione lavorativa sentimentale o di amicizia parentela qualunque cosa basta che adesso ce lo diciate ok questa vuole uscire ugualmente quindi la teniamo allora chi sei vediamo un po' identificati allora questa carta fa proprio riferimento a quella creatività che abbiamo visto nel taglio dello Shouzen quindi tutto quello che è legato al nostro lato non solo artistico proprio la nostra propensione verso qualche cosa quindi l'inclinazione verso qualche cosa è quello che noi abbiamo scelto di fare o di dire allora questa è una situazione dove c'è una separazione in atto direi cioè è un momento veramente dove sembra che si sia raggiunto un equilibrio nel modo peggiore possibile ovvero ognuno per la propria per la propria strada è un periodo decisamente come vedete di magra quindi un momento in cui sembra che non abbiate più alcun contatto con questa persona ma sono in arrivo delle notizie confortanti in questo senso perché è proprio quella piramide come se ci dicesse che nonostante noi non ce ne stiamo accorgendo le cose si stanno gradatamente sistemando allora qua io non vedo una separazione in senso di amore quindi non vedo anche se si trattasse di separazione tra due partner nel quale viene presa in esame la separazione dal punto di vista pratico quindi come ce la siamo aggiustata tra di noi quindi qua c'è un po' il rimpianto di aver detto ho ceduto troppo presto non ho combattuto per avere quest'altro si è in attesa di qualcosa altrimenti qui ci stanno entrambe le cose qui è un allontanamento che c'è stato sul lavoro un allontanamento, un licenziamento comunque un fermo sul lavoro dove temete che non vi sia stata resa giustizia ma temete che in causa ci sia anche un fatto vostro di non essere stati abbastanza risoluti e abbastanza esigenti come invece la situazione avrebbe richiesto ma qui evidentemente è in arrivo qualcosa che sta per mettere a posto la situazione adesso vedremo in quale modalità naturalmente qui trattandosi di una stesa piuttosto articolata quello che dobbiamo fare è spazio come se fosse facile no lo spazio si fa è l'unile che non riesco proprio a fare allora questo va insieme ai cuginetti ecco qua e ci parla quella carta proprio di una nostra fedeltà a noi stessi siete rammaricati per la piega che pensate stia prendendo la situazione ma non lo siete per il tipo di atteggiamento che avete mostrato quindi è una situazione un po' controversa quella che vi si sta profilando davanti perché se tornaste indietro come si dice sempre ah se tornaste indietro farei così e così e invece ogni volta che ci pensate dite no farei uguale però vi da fastidio che questa vostra correttezza questa vostra coerenza con i vostri valori abbia portato almeno adesso un po' a un autogol nel senso che non ha sortito gli effetti voluti ripeto che qua stiamo parlando di soldi o di beni quindi se è una separazione da una persona quindi se c'era un legame sentimentale prima adesso è una separazione stiamo parlando dei termini pratici della separazione altrimenti qui si parla di separazione nel senso di allontanamento dal lavoro oppure di qualcosa che riguarda magari il lato giuridico quindi comunque sempre c'è una contrattazione in atto per una divergenza ecco perché quelle parche ci sono apparse subito in primo piano allora vediamo che cosa ci dice questa stesa partendo dal taglio eccole qui allora qui c'è in gioco una persona in modo particolare quindi potrebbe essere il o la partner ricordate lo che fu che nelle mie stese siete sempre rappresentati dalla carta 29 quindi la dama chiunque voi siate questa è l'altra persona ma se stiamo parlando magari di lavoro potrebbe essere il o la principale o la persona con la quale avete interloquito prima di arrivare a questo conflitto diciamo che ha portato all'allontanamento può essere l'amico o l'amica se è una questione di amicizia o il parente o la parente se spero di no per voi è qualcosa che riguarda questioni familiari andiamo a vedere questa novità quale sarà allora eccoci qui vedete ho scelto la stesa a rombo proprio perché abbiamo una visione onnicomprensiva della situazione e soprattutto possiamo permetterci di andare ad esplorare un pochino tutti gli aspetti quindi beh allora qui la bella novità è che finalmente arriva un passo avanti abbiamo messo un limite temporale un limite temporale quindi di una settimana per cui entro una settimana da quando aprite questo interattivo ricordate bene non è da oggi non andate a guardare la data se lo state aprendo e questo interattivo risale a tre mesi fa rispetto a quando lo state aprendo vale da questo momento entro una settimana come vedete anche qui stiamo parlando di una lite di qualcosa che si trascina da molto tempo qualcosa che ha a che vedere con la burocrazia o comunque qualcosa di ufficiale quindi ben può essere una separazione può essere appunto una causa di lavoro o comunque un conflitto di lavoro dove però c'è un'autorità a cui fare riferimento e qui c'è anche purtroppo in atto in questo momento qualcosa che può essere o un ricorso o se non ha questa proprio tutte queste caratteristiche qualcosa che risuona come un ricorso una ripresa in mano della situazione che è stata auspicata però adesso secondo me siete un po' tesi perché le cose non stanno andando come vorrebbe vorreste alla fine ce l'ho fatto quando parlo di liti c'è sempre l'incespicamento chissà perché allora è iniziata una nuova fase ma non non sentite in questo momento che si stia avvicinando la fine positiva come avreste voluto ci sono stati prima di questa cosa vi do gli indizi dei tentativi di messa a punto avete cercato di evitare e andare o per tribunale o comunque attraverso qualcuno che si ergesse a giudice ma alla fine sempre qui si torna è iniziata questa cosa un po' in sordina e poi però purtroppo ha preso piede tant'è vero che come vi dico qui secondo me siamo in una fase successiva non siamo all'inizio si parla di un taglio si parla quindi di una separazione qualunque sia ne abbiamo già discusso si parla però di qualcosa che sembrava andare bene sembrava poter essere risolta un po' più in pace invece adesso la carta dominante ahimè è proprio quella della frusta quindi qui si sta litigando e soprattutto sembra che non finisca mai per lo meno rispetto alle vostre aspettative allora qual è la bella notizia adesso fino adesso di belle notizie direte non è che ce ne date molte no ma perché abbiamo parlato del passato allora attenzione entro una settimana vi arriva una proposta che però secondo me faccio un piccolo spoiler non accetterete così com'è una proposta per mettervi d'accordo che comunque già vi suonerà come una prima vittoria perché è una proposta volta a non proseguire con questa lite quindi già che cosa dice che chi propone questa cosa sente la paura di poter perdere nonostante guardate ultimamente abbiate subito una certa arroganza dall'altra parte però sapete che poi anche a baia ecco se dovessi parlare dei miei poi non ne parliamo quindi sentirete un brividino insomma come dire beh allora forse le cose non stanno andando proprio male come penso io perché dall'altra parte c'è stato un po' di gioco contro nel darvi l'impressione di questa spavalderia sicura di sé che tutto sarebbe andato per il meglio per l'altro e non per voi qui vi arriva una proposta per mettersi d'accordo direte bene quindi con questo ci mettiamo d'accordo no non vi mettete d'accordo non è questa la conclusione della stesa la stesa ci dice che a seguito di questa proposta che sicuramente porterà nel vostro umore una bella ventata d'aria fresca e ci voleva lasciatemelo dire qui dovrete valutare ma non c'è bisogno che ve lo dica io ve ne accorgerete subito c'è da valutare molto attentamente questa proposta perché ha delle insidie nascoste d'altra parte insomma quando escono le serpi si sa no non c'è mai non è tutto quello che si vede non è esattamente quello che in realtà c'è sotto questo è un tentativo di finirla prima per non avere la peggio ma anche in questo la parte avversa cosa fa cerca di portarsi a casa qualche briciolina di troppo quindi qui questa notizia comunque questo documento questa comunicazione che vi arriverà sarà intanto un punto interrogativo nei vostri confronti verrà chiesto se siete disposti a chiudere questa lite per poter operare una scelta quindi di pace di assestamento ma la vostra risposta inizialmente sarà 1 mi prendo del tempo 2 una volta che il tempo ve lo sarete preso questo ve lo dico anche se non capita entro una settimana però subodererete subito qualcosa che non va il passaggio successivo sarà di chiedere come delle modifiche a questa proposta e ve lo dico subito anche se non avviene in una settimana perché vi dico che qui ci sono dei larghissimi margini di riuscita nella contrattazione adesso cerchiamo ora che è detta la frase generale contestualizziamo un attimo se vi state separando se si sta dal partner dal marito da una moglie insomma da qualcuno e qui si discute in termini economici anche pratici quindi va beh che è economico anche quello però per esempio anche la divisione di beni che non siano soldi e anche cose magari un pochino più legate al mondo degli affetti tipo la gestione di prole per esempio no? oppure la suddivisione di beni appunto materiali ma magari legati al mondo degli affetti possono essere gioielli insomma cose concrete ma che hanno anche un loro lato affettivo è tutto iniziato bene avete probabilmente detto all'inizio facciamocela tra di noi non stiamo a tirare in ballo altre cose invece qui siamo già in tribunale e ci sono già state delle udienze ci è stata magari già una prima sentenza sicuramente c'è stato un ricorso e ciò che era iniziato per le vie paciose adesso invece è piuttosto per le vie velenose avreste state vi ricordate quel rimpianto che c'era all'inizio state pensando che forse avreste dovuto subito partire in guerra ma siccome è stata una scelta che avete fatto andando incontro alle vostre esigenze al vostro modo di essere per quanto ora vi rendiate conto che forse sarebbe stato meglio così siete comunque contenti di non averlo fatto e adesso tanto ve la beccate comunque almeno potete dire ci ho provato non è andata in questo modo bene vi arriva in questo momento in cui siete effettivamente un po' fiacchi insomma come energie un pochino scornati vi arriva qua improvvisamente una proposta per chiudere prima nel senso troviamo un accordo questi sono questa è la mia proposta anziché andare avanti 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 vediamo se riusciamo a metterci d'accordo per i fatti nostri tanto sempre poi da qui si deve passare però si può comunicare questa cosa è inutile credo appunto segnalarvi che questa situazione comporta dei rischi di cui vi accorgerete ma la bella notizia è che vi arriva questa proposta quindi vi si sblocca un po' questa brutta sensazione di essere in un vicolo cieco dal quale uscirete solo per denti avrete subito la consapevolezza non è soltanto un'impressione che questa proposta per voi è un segnale positivo quindi che potete spuntarla che potete almeno ricevere giustizia l'altra cosa che arriva insieme che vi dico che arriverà praticamente subito dopo è che vi riprometterete comunicherete di ripromettervi di esaminarla quindi non dite subito sì dalla contentezza qui questa impulsività vi è bastata una volta quando ci siete cascati all'inizio per dire ma sì va bene facciamola tra di noi adesso avete imparato che non si fa così quindi adesso vi prenderete del tempo sistemerete ma questo a partire da quando vi arriverà questa comunicazione che vi arriva entro una settimana dopo sistemerete in modo piuttosto attento accurato tutto ciò che non vi conviene guardate qui abbiamo proprio nel Roger rilanciate no con altri documenti con altre proposte fate la classica controproposta e da quello che vedo qui naturalmente ognuno di noi ha la propria storia ma da quello che vedo qui a partire da tre mesi da quando vi arriva questa proposta entro massimo tre mesi la situazione si chiude a vostro favore non vi ricoprono d'oro non avrete cose che diciamoci sono al di sopra di quello che è giusto che otteniate avrete quello che vi spetta questo è per separazioni insomma è brutto quando succedono però succedono quindi questo eventualmente si tratta di appunto un matrimonio una convivenza che purtroppo non è andata bene se lo trasportiamo nel mondo del lavoro qui è la stessa cosa ma state avendo dei problemi da un po' qui più che potrebbe essere più che un licenziamento o un allontanamento voi che avete chiesto di andarvene da un posto per andare dall'altra parte ma vi è stato fatto un po' di ostruzionismo per quanto riguarda proprio il trattamento di fine rapporto la cosa che inizialmente sembrava potersi risolvere in modo amichevole insomma per quanto possibile non è andata in questo modo ugualmente qui potrebbe arrivarvi anzi vi arriverà in un momento un po' buio perché adesso anche qui ovviamente le energie sono sempre quelle siete in un momento particolarmente difficile e pessimista vi arriva questa proposta anche qui dalla proposta evincerete che l'altra parte vuole chiudere perché sente che le cose non sono poi così favorevoli per loro quindi questa è la prima notizia felice la bella notizia che vi arriva anche qui da lì partirà poi una vostra controproposta e soprattutto del tempo che vi prenderete per esaminare dove fa acqua la proposta che vi è appena stata fatta e anche qui io credo che entro tre mesi ci sarà comunque una risoluzione che vi renderà soddisfatti però vedete che qui concludiamo con se guardiamo entro la settimana questa notizia va sulla decisione da prendere quindi vi arriva una notizia per riassumere una comunicazione una proposta sulla quale voi alla fine avete l'ultima parola per decidere poi qua capiamo quale sarà la vostra decisione quindi importante per voi è anche tagliare andare via vedete che qui c'è proprio un contratto un accordo può essere anche l'unione matrimoniale la lite e il taglio quindi l'importante poi è che vi libererete che sia di un rapporto di lavoro che non si riesce a concludere in modo eco che sia un matrimonio una relazione andrà poi alla fine a vostro favore ma entro una settimana ricevete questa cosa poi dopo qui è in sospeso ma come vi dicevo secondo me non è azzardato pensare che le cose anzi è abbastanza chiaro le cose si risolveranno come meritate quindi come volete allora dicevamo all'inizio potevano essere anche parenti amici e allora purtroppo di chiunque si tratti qua l'autorità c'è e quindi qua si tratta di vedere amici sinceramente non so quale potrebbe essere il contesto però se avete una situazione simile a quelle annunciate con una persona amica anche qui si risolve però purtroppo se è un'amicizia l'amicizia poi ve la siete giocata ma ormai da un po' quindi non è che ci facciate un grosso investimento su questo per quanto riguarda invece questioni familiari qua evidentemente la cosa che mi viene maggiormente da pensare è proprio la divisione di qualche cosa anche se non ci sono carte chiare qua si tratta di divisione di beni secondo me o ereditati o comunque da spartire tra più persone anche se qua da quello che vedo è più un fatto vostro contro una persona avete visto anche che cosa c'era il taglio quindi magari ci sia messi tutti d'accordo tranne voi con quella persona la con quello zio o con quel cugino per il resto la situazione in generale non presenta grossi problemi però anche qui vi arriverà questa proposta che vi darà la sensazione che molto presto sarete fuori dal tunnel e di fatti è così allora andiamo a vedere che cosa ci dice il monologi giusto per non farci mancare niente vediamo un po' ok siete molto vicini a raggiungere il vostro obiettivo tac di fatti entro una settimana avrete già questa sensazione ripeto entro una settimana la comunicazione la proposta che però resterà lì in sospeso perché vi prenderete il tempo che sia questa una situazione che riguarda ahimè i sentimenti quindi sentimenti ormai qui non ne stiamo parlando un rapporto diciamo che ha avuto a che vedere con i sentimenti ma da un po' i sentimenti c'entrano poco o che sia un rapporto lavorativo o anche una lite famigliare qui vi arriva una proposta che vi farà veramente felici perché adesso siete in un momento di particolare pessimismo bene allora questa era la prima delle due belle notizie che vi arriveranno entro una settimana io concludo qui come vedete siamo andati particolarmente a fondo quindi aspettatevela entro una settimana e vedrete che gli spiriti vi si risolleveranno immediatamente per adesso se volete mettete il like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto come sempre io vi faccio un enorme bocca al lupo vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic ciao se avete scelto la super tradizione quindi le piattine che le nostre super super conosciutissime le normò andiamo a vedere di che cosa si tratta questa bella notizia che è in arrivo questa novità positiva naturalmente perché come ho detto quelle brutte già ci arrivano comunque almeno anticipiamo i tempi di un po' di felicità andiamo a vedere di che cosa si tratta vediamo come sempre partiamo dalle energie principali quindi vediamo la storia è infinita e magari arrivasse la novità che la fa finita ovviamente è una novità bella quindi non vi sto augurando che finisca malamente però insomma qui le energie vostre che non si esce qua non se ne cava un ragno dal buco da questa storia perché la storia è infinita e peggio ancora della carta di sinfonia incompiuta perché quella dice magari siamo al primo tentativo qui no qui non finisce mai vediamo un po' non so perché ma qui mi sa che andiamo a parlare d'amore non lo so eh ho questa piccola sensazione vediamo cosa ci dicono ok vediamo il taglio questa addirittura vuole fare finita proprio allora vediamo un po' la giocoleria dunque qui state provando di tutto per uscire da questo da questo tunnel per farla finita ma non detto così in tono minaccioso per finire per arrivare a una conclusione maturità e creatività e basta no ormai i tempi sono effettivamente maturi qui pochino di sprint e le cose possono andare bene ma evidentemente benché le abbiate tentate tutte qui ancora non sappiamo bene di che cosa stiamo parlando quindi ecco qua la morale uff e non sapere da che parte guardare è però andate andiamo avanti lo stesso qua allora la morale come sapete è una carta che non fa riferimento soltanto alla morale di per sé ma è proprio quella carta che ci dice che ci sono delle dei binari dei vincoli siamo guardate ci sono gente di peggio veramente secondo me è un'immagine anche un po' angosciante è tutto fermo è tutto rigido sembra che nulla si possa cambiare eppure questa storia va avanti non finisce non si riesce ad arrivare a una conclusione positiva questo è come vi sentite ahimè quindi per questa storia che non finisce guardate cioè la storia infinita non nel senso che è bello che non finisce mai guardate qua è proprio la testa tra le mani e qui questa carta con questo nome insomma un po' sinistro però che ci dice che non sapete cosa pensare a questo punto un momento sembra che vada un momento sembra di no il viaggio e qui si va avanti uno stesso dal dispetto dei santi perché comunque evidentemente un fondamento di sentimenti di connessione qui c'è insomma sentite che volete andare avanti però che fatica con questa roba su gombone insomma eh si arriva veramente una bella notizia e se stiamo parlando d'amore io mi auguro noi ormai lo stavo quasi dando per scontato ma dobbiamo anche cercare di capire che cosa ci dicono loro sentite a questi punti siamo non ne potete più vi date anche delle responsabilità per questa cosa e oltretutto io devo dire che qui eh adesso andremo a vedere di che cosa si tratta però non mi piace tanto quello che vedo dall'altra parte è come se ci fosse anche un atteggiamento un po' tossichino eh come se eh voi foste un po' più esposti a essere manipolati rispetto all'altro siamo ancora in campo neutro si fa per dire perché secondo me qua adesso salta fuori ecco qua oh ecco che cosa è successo qua ecco che cosa è successo qui andava tutto bene va tutto bene ma qui è un continuo vi siete lasciati qua questo è come potete immaginare visto che non la manda dire il simbolo non stiamo parlando di sentimenti qua vi siete lasciati e eh vorreste capire come siete lasciati vi siete allontanati insomma come preferite nonostante questa connessione forte nonostante un rapporto dei sentimenti forti nonostante magari ci fossero anche o le premesse se la cosa era cerba o invece magari dei presupposti se la cosa era avanzata di andare avanti all'infinito ma bene no? secondo me per molti di voi non è neanche la prima volta questo è il classico tira e molla eh che però siccome questo è il rapporto che vi lega quindi direi che c'è poco da aggiungere quindi poi si torna sempre lì ehm che cosa state cercando qua? state cercando di tirare avanti di capire se questa è la volta definitiva sapete vi sentite già che tanto c'è una ripresa però così non state bene qui c'è qualcosa che sta impedendo eh uno sviluppo armonico di questa storia e quindi vediamo se arriva questa notizia cominciamo adesso a completare il quadro delle energie la forza ecco qua la forza nella sua doppia accezione quindi tenete duro qua avete veramente retto bene eh questa storia infinita e d'altra parte forza ci vuole forse avete fatto anche di più di quanto poteste permettervi a livello energetico però qua è anche eh un po' e l'ho visto in quel taglio forse anche un atteggiamento diciamo un po' arrogante dall'altra parte quindi eh state subendo secondo me qua soprattutto state subendo l'allontanamento di qualcuno questo che significa se siete stati voi a dire basta eh prendiamoci una pausa o lasciamoci però vi aspettavate comunque una reazione che non c'è stata quindi state comunque subendo questo allontanamento anche se l'avete deciso voi c'è una sorta di prepotenza un po' di manipolazione dall'altra parte che vi sta gestendo tramite il silenzio tramite la chiusura anche se l'avete voluta voi eravate certi che sarebbe stato qualcosa di momentaneo anche perché è sempre andata così se invece siete agli inizi quindi magari eh avete allontanato una persona che ancora non conoscevate bene siete in una fase di delusione perché vi sareste comunque aspettati una una un ritorno sui propri passi invece qui state proprio assistendo a nulla di fatto e forse vi state senza forse perché uscita spontaneamente quella carta della giocoleria potrebbe essere che in questo momento state cercando di attirare l'attenzione e questa persona ovviamente nel modo eh più discreto possibile magari indirettamente anche chiedendo a qualcuno o pubblicando voi qualcosa sui social o dando a intendere a chi può riferire delle cose che possano ingerosire insomma siete in una fase diciamo non bella ma volete arrivare alla conclusione di questa altalena perché non ne potete più vediamo qual è la carta qua status volete trovare proprio eh l'equilibrio non dico che siate disposti a tutto perché in realtà mh vi peserebbe tantissimo eh pur di uscirne dire allora non vediamoci più vi peserebbe però adesso state veramente al limite della sopportazione quindi non dico che forse accettereste anche questo però quasi quasi sì mh allora ehm non posso che aspettarmi cose positive ma perché l'abbiamo chiesto noi abbiamo chiesto quale bella novità non è che dobbiamo per forza quindi vediamo la novità bella riguardo a questa storia chiediamo una mano allo G per puntualizzare magari se ci siamo persi qualche dettaglio anche se penso che il quadro sia già abbastanza chiaro ok e state cercando di nuovo l'equilibrio qua è una ripresa guardate allora adesso chiaramente andiamo a stendere le norman perché ehm su questo si basa la lettura lo G è ora quello che io utilizzo soprattutto come dicevo per puntualizzare quando leggiamo le energie però già da qui possiamo capire che vi stanno dando questo quadro della situazione per elevarlo poi energeticamente d'altro canto tutto questo sta anche nella nostra richiesta no abbiamo chiesto entro una settimana cosa succede di bello qui siete piuttosto provati perché avete sperato in una riappacificazione qui con un allontanamento comunque con un raffreddamento della situazione speravate proprio una riappacificazione e soprattutto nel ritrovare l'equilibrio qui non è la giustizia questo equilibrio è la bilancia quindi che la situazione in questo momento è squilibrata eh a vostro discapito nel senso che ripeto anche se avete preso voi l'iniziativa l'avete fatto certi o quasi di una reazione che non è arrivata quindi qui però abbiamo eh delle ottime carte per quanto riguarda la possibile ripresa e anche una ottima dose di fortuna di sincronicità di cose belle che si vanno un pochino a incastrare tra di loro adesso vediamo quali chiaramente però insomma partiamo da avvantaggiati eh come sempre succede in questi casi adesso andiamo a fare spazio che è la cosa più difficile di tutte qui ricordandoci bene quali sono i propri presupposti guardate adesso ricordiamocelo come siete qui con questa storia infinita che non arriva a un punto con questa forza che secondo me è anche indice di comportamento un po' manipolatorio dall'altra parte e voi che state cercando in tutti i modi di provocarla questa reazione di chiamiamole un ritorno ma è un ritorno sui propri passi ed è un ritorno che deve essere equilibrato quindi non è un ritorno qualunque non è per sapere vi stanno dicendo che qualcuno quel qualcuno suonerà la vostra porta e basta eh qui avete delle condizioni senza le quali non si va avanti e soprattutto l'abbattimento l'afflizione di questo periodo è dovuto al fatto che non c'è stata una risposta come avreste pensato a questo allontanamento che l'abbiate scelto voi che l'abbia scelto l'altra persona voi siete un po' le infibrillazioni dall'altra parte sembra che ci sia un silenzio totale quasi assoluto volete capire dove siete avete bisogno comunque di mettere fine a questa storia infinita allora dunque eh sapete che io prima di parlare di ritorno siccome è l'argomento forse più gettonato di tutti aspetto no? semmai se c'è qualche indizio qui sembra proprio che mi abbiano voluto eh così eh avvisare guarda che questo è un ritorno ehm abbiamo il cavaliere quindi è qualcuno che si muove nella vostra direzione con un cambiamento quindi questo è l'allontanamento da questo stato di assoluta incertezza di stallo per essere invece eh qualcosa che insomma se viene verso di voi con questa nave voglio ben sperare che si tratti proprio di quel cambiamento cioè di dire stiamo qua cosa può essere questa storia infinita che non finisce perché? beh l'abbiamo visto potrebbe non essere ben chiaro il fatto che stiate insieme potrebbe invece essere magari una storia eh divisa con un'altra persona eh un'indecisione dovuta al fatto che magari non si sente di stare in una storia seria però intanto ci sta insomma tutte quelle cose che portano quelle relazioni ad elastico a boomerang che uno butta via e tornano sempre perché comunque c'è la connessione l'abbiamo vista soprattutto nel simbolo non se ce l'andiamo a vedere beh c'è poco da fare no? quindi adesso andiamocela a leggere ebbè 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 ci dice tante cose questa stesa ma soprattutto qua ci dice che eh in un modo o nell'altro qui arriva in via diciamo ufficiale in via sulla della sincerità parliamo dopo eh comunque arriva un'occasione che non vi farete sfuggire eh per ricomporre questa storia attenzione eh questa è una storia che si basa sì sui sentimenti e su questo cioè non ci piove no? si basa sì sulla connessione l'abbiamo visto soprattutto qui quindi non è un sentimento fatto non è qualcosa di effimero che momento c'è o momento non c'è è qualcosa di molto profondo però eh e mi scuso per il però perché sto per dire una cosa bellissima che anacqua un po' il tutto c'è anche molta passione molta attrazione fisica direte meno male certo solo che a volte questa cosa che non mi rifiuto di definire problema ad averne però ehm condizionato un pochino lo svolgimento di questa storia nel senso che in alcune occasioni anziché soffermarsi e come darvi torto a parlare a cercare di eh snocciolare i problemi qua ha avuto sopravvento anche questa grande attrazione che mica la buttiamo via però sembra proprio che eh questa cosa abbia a volte eh ritardato rimandato la presa di eh coscienza di quelli che fossero che erano i problemi quindi eh qui ci sarà un incontro più che un ritorno il ritorno l'abbiamo visto ritorno con un cambiamento ma qui ci sarà un incontro eh passionale quindi vi incontrate vi vedete e insomma eh il resto fatelo voi perché non c'è bisogno che ve lo spieghi eh e da questo incontro eh ci sarà l'occasione giusta per prendere in mano la situazione e finalmente arrivare a quel chiarimento che è rimasto latente così avanti e indietro per tanto tempo tanto è vero che mostrate in questo modo allora tendo subito tengo subito a precisare che qui ovviamente si vede l'incontro passionale al massimo dei termini però può anche essere anche un bacetto direte ma come sì cioè qui si vede proprio la fisicità della cosa l'importante tanto per il resto avrete tempo dopo se questa storia finalmente eh si stabilizza l'importante che sarà l'occasione per riprendere in mano il discorso allora prima finite ecco non è che bisogna devo cogliere l'occasione ecco però sappiate che così stanno le cose effettivamente questo cambio da parte del partner o della persona che magari ancora partner non è ma che volete ce l'abbiamo addirittura in questa carta del giardino che sta al centro perché troviamo come se fosse una persona rinata eh da zero quindi eh qua che cosa abbiamo abbiamo che avrà questa volpe la vediamo in questo caso un po' trasformato un po' eh esautorata rispetto alle tecniche che sa usare di solito ehm è inutile nasconderci dietro un dito a questa persona qualunque sia la vostra situazione di coppia pesa moltissimo l'ufficialità magari è vostro marito vostra moglie direte come mamma ha sposato sì però è qualcuno che nel tempo ha sviluppato una come dire eh un rigetto nei confronti di eh delle regole e se andiamo a guardare qua avevamo proprio questa è proprio una carta di costrizione costrizione voi non sapete bene che cosa pensare però il viaggio c'è quindi nonostante eh abbia rifiutato magari in questo momento o da subito eh di restare dentro determinati range nonostante questo qui c'è questa passione che spinge per avere eh una relazione però in passato il problema è stato questo poi che ci fossero anche altre persone eh tradimenti distrazioni altri partner quindi più ufficiali o eh anche motivi propri di altra natura su questo non si discute ma se voi vedete questa è una persona che soffre molto il rigore eh delle regole tende invece a essere non dico più fedele ma più a proprio agio più in sintonia con voi quando sente che non c'è nessun obbligo eh quindi qual è la bella notizia che questa persona evidentemente si fa due conti eh capisce che da qualche parte deve cedere quindi cede questa parte un po' eh questa parte così respingente nei confronti delle regole e si apre un pochino torna abbiamo visto questo cavaliere cavaliere guardate una di quelle carte che quando esce sbaglia mai quindi il ritorno qui c'è c'è con un bilanciamento quindi andiamo dalla eh ufficialità a invece la spontaneità totale eh troviamo un modo trova un modo per bilanciarsi il tutto nasce da un incontro eh secondo me non tanto furtuito qui c'è proprio il desiderio di incontrarsi per alcuni magari non sarà subito un incontro sarà l'appuntamento per un incontro anche se secondo me qui è proprio un incontro eh dove si parlerà di questa cosa eh prima la passione e lasciatela andare c'è tempo per parlare dopo ripeto non è che dovete quando dico da cogliere al volo non dovete dire no prima parliamo non fatelo questo errore dopo è meglio vi assicuro ehm che cos'è questa volpe che abbiamo qui subito dopo il cane abbiamo comunque una persona che benché è cambiata benché è desiderosa di riconquistarvi di rimettersi insieme eh vi sta dicendo arriva con un'energia sincera ma non dimenticatevi che se il pelo non lo perde sì se il pelo lo perde il lupo non perde il vizio stesso dicasi per la volpe cioè siamo lo stesso eh stesso genere di cose quindi avrete magari una sensazione un po' così di timore di essere di nuovo presi un po' per il naso ma eh qua siccome come vi dicevo questa non è solo passione fisica ma è anche questa meravigliosa connessione questo sentimento forte che c'è tra di voi eh la paura di mandare tutto a quel paese soprattutto all'altra parte eh farà sì che riusciate a parlarvi sinceramente a trovare un punto d'accordo quindi questo è anche il nostro piccolo sì tenete presente comunque che qui c'è un po' di ehm tentativo anche magari innocente mica tanto di manipolazioni di esercitare il fascino di cercare di farvi capitolare ma voi tenete duro mi raccomando ricordiamo che all'inizio il problema che vi tiene adesso un po' sotto scacco è che questa persona non sta reagendo direte ma se non si sta facendo sentire com'è possibile che io lo incontri allora è incontro o proposta di incontro in ogni caso se è un incontro eh se non viene stabilito prima quindi entro questa settimana potrebbe sembrarvi casuale non lo è qui c'è progettazione quindi è quella persona che vi chiede l'incontro che vi incontra e se per caso eh vi capiterà di incontrarle dire oh toh anche tu qui non è lì per caso no non è lì per caso per niente potrebbe essersi anche fatta aiutare da amici comunque aver cercato eh la collaborazione di qualcuno nel momento in cui adesso voi siete in questa energia di giocoleria state cercando di attrarre la sua attenzione sta facendo lo stesso quindi questa è un'energia che va per tutti e due no quindi qui abbiamo la rimanifestazione chiamiamola così in ritorno eh all'interno di questa storia infinita di questa persona che adesso vi sta tenendo sotto scacco con silenzio e che eh comunque dopo un incontro questo è un incontro passionale poi si dimostrerà cambiato ripeto parzialmente cambiato però è tantissimo cioè rispetto alle carte che abbiamo visto inizialmente qui è tantissimo quindi cogliete l'occasione e poi dopo sappiatevela giocare come si deve questa situazione perché alla fine eh vi renderete conto voi in prima persona della quantità e della solidità dei sentimenti che ci sono a volte le persone agiscono in un modo che ci fa pensare che non abbiano sentimenti invece soltanto il loro bruttissimo modo di fare la mia piccola raccomandazione piccolissima perché non voglio guastare questo clima ediliaco e comunque di tenere un po' la guardia alzata perché nonostante quale cose vengano completamente recuperate ricordatevi che avete a che fare con una persona che ha energia volpe che nonostante stia cercando di modificarsi alcuni schemi di comportamento rimangono sempre anche nostro malgrado quindi non rischiate magari non dico di avere troppe aspettative abbiatele però non è un cambiamento a 180 gradi facciamo 175 gli ultimi 5 ci riteniamo per dopo quindi qui la bella notizia è l'incontro l'incontro anche se vi sembra impossibile perché queste sono carte che a giudicare dal taglio non lasciano spazio a dubbi in secondo ordine se invece sapete che senza mettersi d'accordo prima è impossibile è la richiesta di un incontro con poi degli sviluppi particolarmente interessanti ok adesso andiamo a vederci anche qui la carta del monologi ricordiamo che appunto anche lo G ci aveva detto che qui era qualcosa che aveva bisogno di ritrovare equilibrio quindi altro che insomma vi siete sentiti snobbati per un po' qui venite addirittura siete oggetto di ricerca e anche di qualche spiatina quindi si riequilibra e come vediamo che cosa ci dice appunto il monologi ah me l'aspettavo me l'aspettavo giuro questa proprio non so perché ce l'avevo in mente forse allora non lasciare che sul tuo cammino si intrometta l'orgoglio perché lo dico andiamo a prenderci la carta che è riuscita prima la la forza la forza con cui volete questa cosa vi avevo detto può essere anche la forza intesa male dell'altro che magari sembra un po' arrogante un po' prepotente e l'ultima osservazione vi ho detto alcuni comportamenti alcuni atteggiamenti sono gli ultimi ad andare via ecco visto che ci arriva questo avvertimento naturalmente se lo desiderate ricordatevi che pur nella meraviglia di questo approccio di questo ritorno di questo rifarsi vivo viva potrebbe esserci forse anche solo per imbarazzo un comportamento un po' antipatico come per dire ma come vieni qui mi chiedi praticamente in giro anche di ricominciare però fai ti dai un sacco d'aria è timidezza secondo me è anche un po' di disagio perché comunque sta calando le arie il rischio qual è che se non la vedete così sul momento l'orgoglio possa farvi dire torna dove sei stato fino adesso cioè questa mette proprio l'accento su uno dei rischi di questa volpe io non penso che ci sia questo rischio in realtà però evidentemente se esce si vede che per qualcuno di voi è pertinente quello che mi sento di dirvi è che in ogni caso la bella notizia è bella davvero perché per come vi vedo adesso qui siete effettivamente alla ricerca di una parola per dare un'immagine a questo rapporto che è proprio oggi sì domani no qui qualcuno torna per restare e torna in modo consistente abbiamo visto anche i particolari torna con un cambiamento da offrire perché sul fondo mazzo come avete visto al taglio avevamo il cavaliere c'è proprio la nave la nave è la carta del ritorno ma anche nel grande cambiamento quindi forse qui l'unica difficoltà è capire quanto siamo disposti ad accettare ancora di vecchi atteggiamenti e comunque di restare vigili perché come vi dicevo insomma poi è un attimo se non siete vigili ma io mi metterei via la bella notizia che questo è un signor ritorno è un signor rifarsi vivere la vostra vita anche con tanta passione con tanta connessione testimoniata un po' da tutte le carte e soprattutto può essere veramente l'occasione questa per poi chiarire quali sono i punti e far sì che questa storia infinita finisca nel migliore dei modi questo è quello che deve capitare entro una settimana quindi io spero davvero che questa settimana passi in fretta da qualunque momento voi apriate questo interattivo e iniziate a contare da lì e se siete in questa situazione beh sono contenta di avervi potuto illuminare sugli sviluppi bene allora anche questo interattivo finisce qui quindi se vi è piaciuto mettete il like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto come sempre io vi ringrazio tantissimo vi faccio il solito enorme bocca al lupo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta anche con me su Carto Ventic ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti